Il prossimo 24 agosto sarò ad Andria con uno spettacolo concerto a Castel del Monte. Ci sarò io, ci saranno gli altri musicisti con me e suoneremo e parleremo di musica. E' quanto annunciato il maestro Nicola Piovani nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala giunta del comune di Andria. Il noto autore di colonne sonore che ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella terrà il concerto denominato La musica è pericolosa una frase omaggio al grande regista Federico Fellini per il quale la musica è appunto una lingua pericolosa perché commuove e dà emozione. Un tributo al suo genio e al talento raccontati attraverso le magiche note del compositore italiano. La presenza di Piovani ci onora particolarmente proprio perché vogliamo dare ad Andria, quindi a Castel del Monte che è l'emblema più rappresentativo della città, la giusta risonanza in modo da rendere anche come attrattore turistico tutto il territorio infatti lavoriamo con una visione che tiene dentro non solo Andria ma tutto il circondario quindi la presenza di un personaggio come Piovani non può che farci raggiungere questo obiettivo. Appuntamenti importanti che ci danno la possibilità di comprendere quanto vivere l'estate non sia soltanto l'esploà di alcune iniziative ma sia poi una costante da portare avanti durante l'anno e infatti la città vive durante l'anno tanti appuntamenti in preparazione poi a grandi eventi che sono fortunatamente realizzati grazie a una proficua collaborazione con la regione attraverso Puglia Promozione, grazie al sostegno di privati perché queste iniziative, queste manifestazioni ovviamente non potrebbero essere sostenute unicamente dal comune di Andria. Il nome in particolare del maestro Piovani lo stiamo legando al nostro bene UNESCO a Castel del Monte, Stupormundi tutto il lavoro legato attorno alla figura di Federico II di Svevia che per noi diventa anche sul territorio la possibilità di consegnare dei riconoscimenti a chi effettivamente della propria arte, del proprio mestiere, della propria professione ha fatto un successo mondiale.